Abbiamo queste pants che un lato è più lungo dell'altro perché sono inclinate, qui 19,3 e qui invece 18, quindi dobbiamo partare fino a 19,3 queste linee che ci manca, questo punto e quando andiamo ora a chiudere le pants, che il centro va sempre verso il bacino, uniamo questi punti per avere, perché non possiamo piegare e verificare che un lato è uguale all'altro, noi abbiamo già misurato, abbiamo trovato qui 19,3 e qui 19,3, uniamo questi due punti con lo scotch e qui è sufficiente per avere giusta misurazione, così chiudiamo tutti i pants per formare la nostra linea della vita. Ok? Ok. Ok. Ok.